Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo fantastico video. Io sono WasGamer e oggi siamo su Bioshock e continuiamo questa nostra avventura. Dobbiamo andare a recuperare le fiale di clorofilla per farci aprire questa porta. Questa qui. E quindi dobbiamo andare a recuperare la clorofilla. Quindi andiamo. I riti voodoo fai. Con le bambole voodoo. Qui c'è qualcosa che non va. Sparachiodi. Io la voglio. Che è stato? Che è successo? Si è pagato tutto. Andiamo a recuperare la clorofilla. La clorofilla Arcadia Glance. Oh. Morita tutti. Bastante. Dammelo. Dammelo proprio. Lo voglio io. Non mi interessa. Che c'è un po' di... di movimento qui. Quella cosa... oh. Oh. Valeretta. Io quella torretta la voglio. Io le voglio tutte. Ok. Antimuomo no. Però questi qua... Questi qua a ricerca di calore io li voglio. Eh non... muovi. Dai fermo. Ok. Il granaldetto elettronico lo voglio. Oddio. Fermo. Allora dobbiamo andare ad aggirare quella torretta. Oddio. Allora dov'è? Ma non è qua. Salta. Salta. Oddio. No. Dov'è? No. No 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 no. Per fortuna... No. Le due torrette no. No 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 no. Non vi distruggete fra di voi. Tu devi essere pure mia. Aggiriamone qualcuno. Maledetto. Maledetto. Vieni qua da me. No. Esplode. Boh. Non capisco. Forse le torrette. Hanno agito fin troppo bene. Sto usando i pallettone. No 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 no. No lascia. Mia. Vi è bene. No. Con chi ce l'ha? Mettila. No. Un'altra. Ah. Per un pelo. Maledetto. Ritorna. Vieni qua. Oh. Le granate queste sono mie. Cos'è? Eh 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 eh. Dammi tutto. Raccogliamo tutto. Eh. Dobbiamo prendere la... La... Ah. La rosa era. Quindi non era la clorofilla. Quindi rosa. Chi è che... Che sta cercando di distruggere la mia roba? Oh. Eccolo dove era. No. Ecco a che serve. A girare. Robò. E torrette. L'avete appena visto. Ok. Ma io non penso. Che debba filare. Sta filando fin troppo liscio tutto. Voglio vedere. Voglio proprio vedere. Sembra fin troppo strano. Questo fischio. Scattiamo qualche foto. Da tanto che non facciamo un bel servizio fotografico. Ah e fai cheese. No. Formaggio niente. No. E' un pallettorino ne... Maledetto. Maledetto. Eh. Li devo comprare? Un po' di kit medici. Sì. Mi sa che è arrivata... È arrivato il momento. Azoto liquido. Stiamo facendo il pieno ma... Fin quando non avremo un'arma... Ce ne faremo proprio niente. Dell'azoto. Ok. Conseguiamo questa roba... Alla signorina. Tieni. Sì. Ho recuperato tutto. Ma sono senza... Sono senza kit... E naturalmente non me lo fa acquistare negli intorni. Perché questo gioco... In modalità difficile... Manda la rosa. Te. Ok. Finalmente ci sgancia... Uno dei miei... Plasmidi preferiti... Per hackerare... La roba. Sì ma io voglio il kit medici. Ecco. Ora dobbiamo recuperare la clorofilla. Dammi tutto. Ora qua c'è roba... Ovunque. Sopra gli scaffali. Ma qui dobbiamo andare... Quasi a senso unico. Dobbiamo andare avanti. Sempre più avanti. Questa torretta... È mia. Di già è mia. Bene. Ok. Vediamo là sotto cosa c'è. Questa torretta... È anche mia. Benissimo. No. Aggiornamenti genetici... Non mi interessa. Eccola. Invento oggetti. Non possiamo inventare... Proprio niente. Il gel elettrico. Dammi il kit medico. Tutto. Cos'è quel countdown? Cos'è quel countdown? Cos'è? 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 Scappa! Via 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 via. Che sta... 9-4 e 5-5-7. Allora... 9457 Ok Oh Via Puzza via 9457 Eccolo Eccolo il nostro Bell Napalm A cosa serviva 9457 9457 Via dammi E vabbè Chiave del mercato Ora ci divertiremo Col Napalm Congeliamo Tutto Tutto No perché è morto Muoviti Bene ragazzi Spero che vi siate divertiti In questa puntata E noi ci becchiamo Sempre qui In questo canale WasGamer Se vi è piaciuto il video Lasciate un pollicione in su E soprattutto Commentate giù E fatemi sapere Cosa ne pensate Di questo video La contata De qui In vanilla No 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 Grazie a tutti.